Tre progetti di ricerca presentati dagli operatori del servizio sanitario regionale sono stati esclusi il 28 ottobre scorso dalla graduatoria finale del bando ricerca finalizzata 2021 del Ministero della Salute. Il deputato del PD Luciano D'Alfonso ha presentato alla stampa la risposta del 24 gennaio del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato alla sua interrogazione. La regione Abruzzo avrebbe dimenticato di certificare i progetti di ricerca biomedica di durata triennale del valore stimato dai 2,4 milioni di euro relativi a un bando nazionale che metteva a disposizione ben 100 milioni di euro complessivi. Noi siamo davanti ad un capolavoro di disordine, di distrazione e di sciatteria poiché la regione Abruzzo, come certifica il Ministero della Salute, dichiara il Ministero della Salute la regione non avendo completato la procedura prevista dal bando non ha permesso al Ministero della Salute di prendere in carico i progetti di ricerca proposti al fine della loro ammissione alla successiva fase di valutazione da parte dei revisori internazionali. Cioè si è omesso un passaggio procedurale determinante per consentire la copertura finanziaria ai progetti di ricerca finalizzati per la sanità abruzzese. In altre regioni si è creata quella competizione differenziata che all'Abruzzo è mancata in questa occasione. Il sottosegretario Gemmato attraverso la risposta ha detto esattamente quello che è accaduto, ha anche garantito un approfondimento per cercare di recuperare la situazione abruzzese. Si è considerato che il progetto di ricerca finalizzata dei nostri giovani studiosi fosse una materia da affrontare con atteggiamento burocratico, meramente cartaceo, di poter rimediare domani, dopodomani e non attraverso una visione programmatoria. Noi abbiamo una domanda di salute in Abruzzo che viene fronteggiata dai bravissimi medici, dagli infermieri, dal personale di supporto tecnico. Serve anche innestare ricerca finalizzata, ricerca scientifica. E qui si trova la coniugazione tra ospedalità, presidi dell'ospedalità e presidi della ricerca scientifica. Soluzioni dunque per l'anno 2021 arriveranno, ma si deve evitare di lavorare al recupero. Presto un colloquio con il sottosegretario per evitare che capiti una situazione analoga per il 2022 e il 2023.